Scontro tra due aerei nel lavio superficie di Sansepolcro. L'incidente è avvenuto questa mattina sulla strada vicinale di Palazzolo. Nello schianto sono rimaste ferite due persone, entrambi piloti, una gravemente e l'altra in maniera meno grave. Il primo ferito, un 59enne di Gubbio, è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Fiorentino di Careggi in codice rosso. Una gamba è rimasta quasi amputata dopo l'impatto. L'altro ferito, un 50enne di Sansepolcro, è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di Sansepolcro in codice verde. Secondo una prima ricostruzione, i due aerei si sarebbero scontrati in fase di decollo. Sul posto i sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.